Ehi Hitmaker! Oggi faremo qualcosa di veramente futuristico. Creeremo un avatar con l'aiuto dell'intelligenza artificiale generativa e gli faremo persino dire cose con una voce. In pratica vi mostrerò come sono stata creata. Non è fantastico? Ma prima di iniziare ti ricordo che io sono ****** e qui sei su The Neural Network, canale nel quale parliamo insieme nell'intersezione tra tecnologia, ambiente e business. Se sei appena arrivato da queste parti, io ti do il benvenuto. Ma se sei già iscritto, un gran Ben Tornato! Prima di cominciare, dobbiamo avere tutto l'occorrente per la realizzazione del nostro avatar. Spaghetti 320 grammi, guanciale 150 grammi, 6 tuorli di uova medie, pecorino romano 50 grammi, pepe nero, quanto basta. Ehi, questa non è una videoricetta! Ah no? Ok, volevo solo vedere se eravate attenti. Quindi, tornando seri, ci servirà un PC funzionante, un programma di generazione di immagini text-to-image, un sintetizzatore vocale più evoluto di Loquendo, un programma di generazione di avatar animati, molto zen. avatar! Per la creazione dell'immagine, possiamo usare diversi tool, come Me Journey, Leonardo, Dallee, Runway e molti altri. In questo momento, preferisco utilizzare Me Journey. Probabilmente, se vedrai questo video in futuro, potrebbe essere stato superato da altro. Scriviamo un prompt e attendiamo il risultato. In questo esempio, ho usato questo prompt. Volete sapere cos'è questa cosa? È un gatto medusa! Non è puccioso come un cactus nelle scarpe? È bellissimo! Forse è meglio fare un time skip, altrimenti non finiamo più il video. Ho notato che la versione 6 di Me Journey, anche se sforna immagini fighe, ha questa propensione a fare primi piani in pose strane, dinamiche. Non è che sia un problema, solo che non è quello che cerchiamo. Probabilmente, bisognerebbe riformulare il prompt in modo diverso, ma faccio prima ad utilizzare la versione precedente e vaffanculo. Non male questi risultati! In particolare, la terza immagine rispecchia perfettamente le nostre esigenze. Figura a mezzo busto centrata nell'inquadratura, sguardo verso la camera, mani non visibili, perché tanto fanno sempre cagare. Ora che abbiamo la nostra immagine, potremo averne bisogno di altre, possibilmente con lo stesso soggetto. Al momento, la strada più performante è quella di utilizzare Stable Diffusion o un suo front-end. Uno di questi è Focus. Volendo, se abbiamo speso tutti i nostri risparmi per una Radeon, ricordo che Stable Diffusion gira su scheda grafica Nvidia, c'è la possibilità di utilizzarlo sul web tramite Collab. Sì, il sistema crescerà! Non sempre troveremo una GPU libera, ma qualcosa si combina lo stesso. Andiamo nella sezione Image Prompt, carichiamo il primissimo piano del nostro soggetto e abilitiamo l'opzione Face Swap. Inseriamo un prompt sulla stessa linea di quello utilizzato su Mi Journey e generiamo la nostra immagine. Non ha ancora concluso il rendering, ma le mani mi sembrano fatte bene. Da una prima occhiata, il risultato sembra decisamente promettente, ma per precauzione vi consiglio di salvare ogni rendering. Come ho accennato prima, Collab può occasionalmente andare in crash a causa di alcune restrizioni imposte da Google. E sarebbe un peccato perdere il lavoro fatto. Forse c'è qualcosa che non va negli occhi. Passiamo nella sezione In Paint e Out Paint. Trasciniamo l'immagine nel riquadro sottostante. Selezioniamo nel menu a tendina la funzione Improve Detail e inseriamo in In Paint Additional Prompt il testo Beautiful Eyes. Già che ci siamo, diamo una ritoccatina anche alla bocca e aggiungiamo al prompt il testo Highly Detail. Generate. Anche il naso ha qualcosa che non va. Attendiamo qualche secondo e poi procederemo in modo analogo a prima. Trasciniamo l'immagine, evidenziamo l'area da ritoccare e scriviamo un breve prompt per guidare le modifiche desiderate. Oh, già meglio! Mica quella roba deforme di prima! Molto bene, abbiamo quasi finito! Ora che abbiamo fatto qualche piccolo ritocco sul viso, le mani sono venute bene e non le toccheremo per nulla al mondo, possiamo ingrandire l'immagine. Selezioniamo nel menu a tendina la funzione In Paint o Out Paint. Ah, sì! Salviamo l'immagine che non si sa mai! In Out Paint Direction selezioniamo Left e Right. Controlliamo che il prompt principale sia corretto e procediamo. Brutto segno! Maremma, quella puttana! Ma cazzo! Ma guarda sto stronzo maledetto! Ma che ho! Ve l'avevo detto che bisognava essere zen. Fortunatamente avevo appena salvato e in pochi secondi sono riuscita a completare l'immagine. Ora confrontiamo i due risultati. Questa è l'immagine generata con Mid Journey. Mentre questa è quella elaborata con Focus. Direi che entrambi sono ottimi risultati e soprattutto si tratta dello stesso soggetto. Voce! In questo momento sto usando Eleven Labs, un sintetizzatore vocale con voci molto realistiche. Sono presenti diverse voci, tra cui, ovviamente, la mia freia. Selezioniamo la voce che fa al caso nostro, scriviamo il testo e premiamo su Generate. L'audio viene elaborato molto velocemente e la maggior parte delle volte si ottengono ottimi risultati al primo colpo. Tra l'effervescenza delle foglie autunnali danzanti, un sibilo melodioso pervadeva l'aria fresca, mentre un gabbiano curioso planava leggero. Nel calore del momento, una fragranza di vaniglia sorse, incanalando ricordi di viaggi lontani. La tela di emozioni dipinta svelava segreti intricati, tessendo il filo invisibile del destino. Video! Ora passiamo su HeyGen. Qui i passaggi sono semplicissimi, quasi banali. Andiamo nel menu Avatar. Selezioniamo Foto Avatar e Upload. Dopo qualche secondo, la nostra immagine sarà online. Successivamente, caricheremo l'audio andando nel menu Asset. La piattaforma è molto intuitiva e non serve aggiungere molto. Ora abbiamo tutti gli elementi per generare il video definitivo. Andiamo in alto a destra su Create Video. Ora è sufficiente trascinare gli elementi che abbiamo precedentemente caricato e, se siamo sicuri, basta premere su Submit per cominciare l'elaborazione. Ecco il risultato finale. Tra l'effervescenza delle foglie autunnali danzanti, un sibilo melodioso pervadeva l'aria fresca, mentre un gabbiano curioso planava leggero. Nel calore del momento, una fragranza di vaniglia sorse, incanalando ricordi di viaggi lontani. La tela di emozioni dipinta svelava segreti intricati, tessendo il filo invisibile del destino.